sottovaluati ciao amici benvenuti ad un altra puntata della reazione dell'americano io sono l'americano mi chiamo franco ho fatto una reaction a una nuova canzone da i nanowar of steel e devo dire qualcosa io penso sono molto sottovaluati sono bravissimi musicisti fanno canzone intelligente ben scritti ben composti fanno una cosa buonissima ma sono stato sottovaluati che la loro musica diciamo non è seria parla di far ridere un po fa fa mettere un sorriso oppure fa pensare un po quando la gente sentono e musica di comedy che dicono abbassano il pensano che hanno un livello molto più basso pensano che non è al livello dei grandi artisti ma il vero è loro sono a quel livello fanno una cosa diversa sì ma sono a quel livello sono sottovaluati se non vuoi ridere non sentire le parole senti proprio la musica e la musica è ben fatta è bellissima so amici dati un più ancora più supporto ai grandi nanowar sono bravissimi iscritti clicca piace ciao